Con questo tutorial parliamo delle equazioni di primo grado. Vediamo come poter risolvere dei casi semplici. Allora, iniziamo da questa equazione. Questo è il primo membro, questo è il secondo membro. L'obiettivo è portare tutte le x da un lato e i numeri dall'altro lato, ricordando che ogni volta che prendo una quantità e la sposto da un membro all'altro devo cambiare disegno. Quindi significa che se prendo questo 2x, lo porto di qua, diventa meno 2x e questo meno 3 portandolo al secondo membro diventa più 3. E allora scriverò x meno 2x uguale 3. Ora qui faccio i calcoli. x meno 2x è meno x uguale a 3. Ora, faccio devo semplicemente cambiare segno, quindi prendere questo meno e portarlo dall'altra parte. In poche parole è come se moltiplico ambo i membri per meno 1 e ottengo x uguale a meno 3. Questa è la soluzione. Vediamo quest'altro esempio. Allora, prendo questa x e la porto a sinistra e vado a scrivere meno 3 quarti x meno x uguale 1. Ho dovuto scrivere meno x perché ho preso la x e l'ho spostata di membro. Ora faccio il minimo comune multiplo ed ottengo 4 meno 3x meno 4x uguale 1. Meno 3 meno 4 viene meno 7 quarti x uguale 1. Ora, per risolvere questo esercizio devo prima di tutto cambiare segno, quindi prendo il segno meno e lo porto dall'altra parte, quindi è come se moltiplico per meno 1. E allora vado a scrivere in questa maniera 7 quarti x uguale a meno 1. Ora devo togliere il 7 quarti di fronte alla x, quindi basta moltiplicare per 4 settimi ambo i membri. in questa maniera questo si semplifica e anche il 4 si semplifica. Ed ottengo infine x uguale meno 4 settimi, che è la soluzione. Vediamo quest'altro esempio. Allora, qui osservo che c'è meno, 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 meno. Quindi quando ho tutti i meno, posso moltiplicare il primo membro e il secondo membro per meno 1 ed ottenere più, 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 più. Ora prendo questo 2x e lo porto a sinistra e prendo questo 6 e lo porto a destra e riscriverò x meno 2x uguale 2 meno 6. Ora, x meno 2x vuol dire fare 1 meno 2 e quindi è meno x uguale 2 meno 6 meno 4. Di nuovo ho meno e meno, che posso automaticamente trasformare in più e più. E allora x uguale a 4 è la soluzione di questa equazione. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, devo prendere il meno 5x e portarlo al primo membro e poi prendere l'1 e portarlo al secondo membro. Però posso anche semplificare direttamente questo 1 e questo 1. Quando ho due quantità identiche che si trovano in membri opposti, le posso subito semplificare. Quindi posso togliere questo 1 con questo 1. Prendo questo meno 5x ora e lo porto a sinistra ed ottengo meno 6x più 5x uguale a 0 meno x uguale a 0 e quindi moltiplicando i due membri per meno 1 ottengo x uguale a 0 che è la soluzione di questa equazione. Analizziamo ora dei casi particolari. Allora, vediamo subito questo esercizio. Posso prendere la x e la porto a sinistra e prendo il 3 e lo porto a destra ed ottengo x meno x uguale 5 meno 3. Ora, x meno x fa 0 uguale a 2. In questo caso la x è scomparsa, vi è soltanto una relazione tra numeri, 0 uguale a 2, ma 0 non è uguale a 2, il che mi dice che questa è un'equazione impossibile. E si scrive impossibile oppure il simbolo dell'insieme vuoto. Vediamo quest'altro caso. Allora, 2x meno x fa x più 1 uguale a x più 1. Qui potrei semplificare la x con la x e l'1 con l'1 ottenendo 0 uguale a 0. Anche in questo caso la x è scomparsa, solo che la relazione tra numeri mi dà luogo a una identità sempre verificata perché ho 0 uguale a 0, sarebbe stata verificata anche se avessi ottenuto 3 uguale a 3 o 5 uguale a 5. Quando ottengo una identità, quindi 0 uguale a 0, l'equazione si dice indeterminata e si scrive r, cioè va bene qualunque valore reale, quindi questo tipo di equazione avrà infinite soluzioni, mentre quest'equazione che risulta impossibile non è mai verificata, quindi non ha soluzioni. Vediamo questi altri esercizi. Allora, 2x più un mezzo x, basta fare il minimo comune multiplo ed ottengo 4x più x uguale a 0. Ora, 4x più x fa 5 mezzi x uguale a 0, devo togliere il 5 mezzi di fronte alla x, quindi moltiplico ambo i membri per 2 quinti, in questa maniera vado a semplificare 5 e 5 e 2 e 2 ed ottengo infine x uguale a 0, perché 0 per 2 quinti mi da 0. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, 8 uguale x meno 2x fa meno x, ora porto il meno x a sinistra e cambio di segno, x uguale, prendo l'8, lo porto a destra ed ottengo meno 8 e termino l'esercizio. Vediamo quest'altro, c'è scritto meno un mezzo x uguale 4 alla meno 1. La prima cosa che faccio è sistemare questo 4 alla meno 1, che vuol dire un quarto, e allora scrivo un mezzo x uguale un quarto. Poi cambio di segno alla x, quindi prendo questo segno meno e lo porto dall'altra parte e scriverò più e qui di fronte ci metto un meno e otterrò un mezzo x uguale a meno un quarto. Ora devo togliere l'un mezzo di fronte alla x e allora moltiplico ambo i membri per 2, così questo si semplifica con questo e questo 2 con questo 4 ed ottengo x uguale, qui c'è un segno meno che vado a ricopiare, meno un mezzo. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, qui la difficoltà è avere 0,03, che posso andare a scrivere come 3 centesimi. E allora scrivo un decimo x uguale, questa quantità la porto a destra e la scrivo come 3 centesimi. Ora devo togliere un decimo di fronte alla x e allora basta moltiplicare per 10 ambo i membri, così questo si semplifica con questo, 10 diviso 10 fa 1 e 100 diviso 10 fa 10 ed ottengo come risultato x uguale 3 decimi. Vediamo quest'altro esercizio. Allora, qui posso semplificare subito questa meno x con questa meno x, perché sono identiche e in membri opposti, quindi questo va via con questo. E scrivo che 2x uguale a 3. Ora, divido ambo i membri per 2, così posso semplificare ed ottenere x uguale a 3 mezzi ed è la soluzione di questo esercizio. Vediamo quest'altro. Allora, 0,5x lo posso scrivere come 5 decimi x e 0,05x come 5 centesimi. Ora devo togliere il numero di fronte alla x, quindi questo 5 decimi, che posso moltiplicare per 10 quinti ambo i membri, così questo va via con questo, il 10 va via con il 10. Ora semplifico di qui. E allora, il 5 va via con il 5, 10 diviso 10 fa 1, 100 diviso 10 fa 10 ed ottengo x uguale a numeratore mi rimane 1, a denominatore 10 e ottengo un decimo. Vediamo ora quest'altro esercizio. Allora, qui devo fare una moltiplicazione di 3 per 2 meno x e di meno 4 per x più 2. E allora inizio. 3 per 2 fa 6, 3 per meno x fa meno 3x, poi meno 4 per x fa meno 4x e meno 4 per 2 fa meno 8 uguale x più 1. Ora, sommo quello che posso sommare, meno 3 meno 4 viene meno 7x e 6 meno 8 viene meno 2 uguale x più 1. Ora porto a sinistra questa x e a destra questo meno 2 e allora vado a riscrivere meno meno 7x meno x uguale 2 più 1. Meno 7x meno x meno 8x uguale a 3. Ora, la prima cosa che faccio è sistemare questo segno meno. Lo prendo, lo porto dall'altra parte, cioè moltiplico per meno 1 e ottengo 8x uguale a meno 3. Poi divido per 8, così posso semplificare ed ottengo x uguale meno 3 ottavi, che è la soluzione di questo esercizio. Vediamo quest'altro. Allora, devo moltiplicare 2 per x più 3 ed ottengo 2x più 2 per 3 fa 6 più 3x uguale meno 4 per x meno 4x, meno 4 per meno 1 fa più 4 e poi più x. Quello che posso sommare lo faccio subito, 2x più 3x fa 5x più 6 uguale meno 4x più x meno 3x più 4. Ora, questa quantità la porta a sinistra è cambio di segno, 5x più 3x uguale, questo 6 lo porto a destra e scrivo meno 6 più 4 ed ottengo 8x uguale meno 6 più 4 fa meno 2. Ora, divido ambe i membri per 8 ed ottengo x uguale a meno ottavi, che posso semplificare ottenendo x uguale meno un quarto e questa è la soluzione. Vediamo questi altri due esercizi. Allora, qui, prima faccio questa moltiplicazione e allora vado a riscrivere 3 che moltiplica 5x meno 5 meno 3x e chiudo la quadra uguale meno 4x più 2. Ora, 3, apro la tonda, 5x meno 3x fa 2x meno 5 uguale meno 4x più 2. A questo punto faccio questa moltiplicazione ed ottengo 6x meno 15 uguale meno 4x più 2. Porto questo meno 4x a sinistra e questo meno 15 a destra ed ottengo il meno 4x portato dall'altra parte viene 4x più 6, 10x uguale meno 15 portato dall'altra parte diventa 15 più 2, 17. Ora, divido ambo i membri per 10 per togliere questo coefficiente della x. Così questo si semplifica ed ottengo come soluzione x uguale 17 decini. Vediamo quest'ultimo esercizio. Allora, sviluppo il quadrato di binomio ed ottengo x alla seconda più 2x più 1 più x meno 6 uguale. Qui faccio questa moltiplicazione, quindi x per x fa x alla seconda meno x perché ho fatto x per meno 1. Essendo equazioni di primo grado devo vedere subito se i termini in x quadro si semplificano. E infatti questo x quadro va via con questo x quadro. Ora inizio a fare un po' di calcoli. 2x più x fa 3x e poi 1 meno 6 meno 5 uguale meno x. Porto il meno x a primo membro e meno 5 a secondo membro ed ottengo 3x più x uguale a 5. Ora 3x più x fa 4x uguale a 5. Divido per 4 così posso semplificare ed ottengo come soluzione x uguale a 5 quarti. E con questo esercizio termino questo tutorial sulle equazioni di primo grado. Abbiamo trattato equazioni di primo grado di livello facile.